Il settore della panificazione prima dell'emergenza Covid era un settore che conosceva diverse ed importanti difficoltà. Prima di tutto la presenza sul territorio italiano di prodotti surgelati, congelati, precotti surgelati provenienti dai paesi dell'est Europa, nella quale non era possibile garantire la catena del freddo, la concorrenza di prezzo dei prodotti rappresentati dalla grande distribuzione e di altre realtà a tassazione inferiore, l'abusivismo, il rincaro dei costi delle materie prime e l'aumento della tassazione, le mode lanciate da qualche nutrizionista influencer, le mode lanciate da qualche consumatore che si autodiagnosticava allergie e intolleranze, quindi l'aumento di richiesta di prodotti che con il pane artigianale avevano poca affinità, come per esempio i prodotti gluten free, carbon free, sugar free, la messa in commercio da parte di qualche panificatore artigianale di prodotti estremamente commerciali, insomma tanti fattori che nel loro piccolo hanno contribuito allo stato di crisi del settore. La situazione post-covid con le misure di contenimento ha notevolmente aggravato lo stato di crisi del settore della panificazione artigianale. Chi ha contribuito ulteriormente ad aggravare questa situazione già difficile prima di febbraio 2020 è stato prima di tutto l'incremento dello smart working, cioè del cosiddetto lavoro online, lavoro a distanza, gli studenti universitari e non seguono le lezioni online, i lavoratori continuano il loro lavoro da casa. Questo ha creato una mancanza di indotto all'interno dei panifici, cioè la gente praticamente non fa più la pausa caffè, non c'è più lo studente che entra nei locali a prendere un pezzo di pizza o addirittura non si fa neanche più la colazione prima di entrare, prima di iniziare il lavoro. Oltre a questo si aggiunga anche che le misure di contenimento del covid-19 hanno ridotto il flusso delle persone all'interno dei locali, creando innumerevoli code fuori dagli stessi. Questo in condizioni atmosferiche avverse, come potrebbe essere il caso di pioggia o di neve, disincentiva parte dei consumatori che prediligono acquistare i prodotti dell'arte bianca, pane, panettoni o qualsiasi specializzazione tipica del nostro settore presso la grande distribuzione. Se le persone non iniziano ad uscire dalle proprie abitazioni e ad entrare nei panifici, pur rispettando la distanza di sicurezza e non stare più fuori dagli stessi locali, nel giro di pochissimi mesi assisteremo alla chiusura di molte realtà artigianali. Per cui saremo costretti a dire addio alla nostra storia, alla nostra cultura, al simbolo della nostra religione, alle tradizioni tramandate da padre in figlio e soprattutto saremo costretti a dire addio al simbolo dell'artigianalità italiana nel mondo. Grazie per la visione!